ben tornati amici di radio news 24 siamo su on air interviste storie io sono marco fiore oggi andiamo a napoli per conoscere la casa discografica di gennaro franco ciao gennaro ciao ciao a tutti quanti benvenuto a radio news 24 grazie di avermi invitato grazie a te lanciarei subito l'hashtag astag sud in sound raccontaci di questa tua fantastica attività si è fantastica perché quando si parla di musica chiaramente andiamo in un settore che bene o male piace a tutti sia per chi la produce ma anche per chi l'ascolta quindi è stato sempre il sogno della mia vita anche della vita del mio socio che abbiamo sempre fatto i musicisti nella vita da qualche anno abbiamo messo su questa casa discografica quindi siamo felici di offrire ai nostri clienti diciamo la nostra professionalità il nostro modo di fare musica e di appunto di creare di produrre musica nuova complimenti gennaro quali sono i servizi che offrite ne offriamo servizi per quanto riguarda il settore discografico a 360 gradi a partire diciamo dalla costruzione di brani quindi abbiamo un team di autori che si dedica insieme ai nostri artisti a costruire brani da zero abbiamo anche un team di che riguarda la formazione quindi vocal coach alcuni che si occupano della parte teorico pratica anche diciamo di tutto quello che ha a che fare con gli approcci musicali e poi il team che riguarda la la produzione proprio del prodotto prodotto musicale quindi della canzone o del dell'album che l'artista sceglie e chiaramente i turnisti quindi anche musicisti che girano che registrano nel disco prima che poi l'artista diciamo finalizzi con con la sua voce e poi chiaramente il team tecnico quindi tecnici di di sala fonici e un servizio a 360 gradi sì 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 poi curiamo anche quello che viene dopo perché solitamente dopo c'è sempre il discorso dove dove facciamo andare andare questo prodotto insomma se ce lo teniamo a caso oppure comunque in qualche modo diamo diamo una mano anche nella distribuzione abbiamo quindi la nostra etichetta sempre su dim sound quindi distribuiamo su tutte le piattaforme abbiamo i nostri canali diciamo promozionali e in modo tale che il prodotto anche una vetrina e può andare avanti genaro parla cd invece del tuo ultimo progetto il ultimo progetto è nato durante la mia quarantena da covid purtroppo oggi ha portato ispirazione allora portato ispirazione tanto è vero che mi è venuta un'idea di produrre un brano che si intitola spero è una canzone dove coinvolto diciamo quasi tutti gli artisti che compongono su team sound parliamo di circa 23 artisti in un'unica canzone dove ognuno diciamo ha messo il suo è stata scritta da sei autori insieme a chiaramente la mia partecipazione è quella di il mio socio anillo misto e un messaggio di speranza un messaggio di di non mollare soprattutto in questo periodo storico molto difficile anche per il settore musicale abbiamo cercato appunto con questa canzone di lanciare il nostro messaggio da qui sono nate ce nasceranno altre iniziative sempre a livello sociale per per il sociale e quindi siamo felici di di averlo fatto in un momento difficile sotto l'aspetto diciamo anche economico insomma sotto l'aspetto logistico sotto tutti gli aspetti anche emotivo però abbiamo dato il nostro messaggio cioè non molliamo andiamo avanti speriamo che questa cosa finisca presto e con e continuiamo a cantare sperando che tra tra breve al più presto possibile possiamo fare un'altra volta sul palco senza dubbio anche perché la musica è vita assolutamente e qual è la chicca della tua attività genaro guarda non non te la so descrivere diciamo che solitamente uno studio di registrazione nasce sai per per attività tecniche quindi il cliente viene studio fitta lo studio c'è l'ingegnere del suono che ti fa la ripresa eccetera eccetera invece noi l'abbiamo impostato in maniera diversa noi ci teniamo a dire casa discografica perché per noi questa è una casa i nostri artisti nel momento in cui accettano chiaramente la nostra proposta la nostra offerta si sentono al loro agio non esiste più il lasso di tempo si sentono a casa sì perché non vengono più soltanto quando magari vengono chiamati per per l'appuntamento insomma di registrazione oppure di programmazioni oppure di lezioni vocali ma ma si sentono di venire anche in altri momenti per condividere insieme ad altri altre emozioni quindi altri fidi delle esperienze e questa è una cosa che abbiamo improntato già dall'inizio del nostro percorso musicale e questo percorso diciamo appunto di attività è una cosa che fondamentalmente piace anche ai nostri ragazzi tant'è vero che abbiamo due appuntamenti fissi a settimana dove c'è un incontro chiaramente adesso con le misure di sicurezza legate alla pandemia però abbiamo la possibilità di fare degli incontri dove in uno c'è riguarda la formazione quindi c'è una cura sull'aspetto diciamo canoro diciamo tecnico puramente tecnico interpretativo no dei brani per quanto riguarda le registrazioni e un altro invece una sorta di salottino dove si incontrano gli autori e gli artisti e nascono idee nascono brani che poi verranno chiaramente prodotte in questa in questa casa discografica complimenti gennaro io invito tutti i nostri ascoltatori a contattare gennaro sui social lo troverete su instagram e su facebook con sud in sound mi raccomando mettete il mi piace condividete questo video e soprattutto contattate gennaro gennaro prima di salutarti vogliamo ricordare a tutti i nostri ascoltatori il tuo sito web assolutamente www.sudinsound.it fantastico io ti ringrazio per essere stato qui con noi grazie a voi grazie a te gennaro invece voi abc di radio news 24 non andate via perché le storie le interviste non finiscono mai su on air